eh sì non avete visto male in Cina si può arrivare a pagare 90.000 yuan ovvero quasi 12.000 euro per una targa di auto e parliamo solo del prezzo medio inoltre non è detto che si riesce ad ottenerla pur essendo disposti a pagare quella cifra cioè completamente fuori dalla nostra concezione dove siamo abituati che se ti piace una macchina e te la puoi permettere economicamente te lo compri e basta non esiste qui il fatto di non poter comprare un'auto perché non sei riuscito a prendere la targa ciao ragazzi benvenuti in un nuovo video io sono Song e sul mio canale tratto temi legati alla tecnologia ed economia incentrato sulla Cina nell'ultimo video ed alcuni video precedenti tanti mi hanno chiesto come funzionava il sistema delle targhe in Cina visto che nelle grandi città tier 1 c'è una sorta di limitazione sull'ottenimento di queste che servono poi per acquistare l'auto non è come qui in Italia dove ti spingono e ti incentivano a comprare l'auto e sono tutti contenti che la compri così tiri su un po' i consumi e rottami le vecchie vetture in Cina invece ovviamente non in tutte le città se vuoi comprare l'auto devi prima ottenere la targa che detto in altre parole sarebbe un po' il diritto di acquistare un'auto uno potrebbe dire vabbè non compro l'auto nuova me la compro usata così risolve il problema eh no ragazzi perché a prescindere dal fatto che se vuoi comprare un'auto usato o una nuova devi prima ottenere la targa e quindi come si ottiene questa benedetta targa in Cina beh ci sono due metodi sostanzialmente il primo è tramite il sorteggio cioè ogni tot di periodi in alcune città ogni mese in altre più di un mese c'è questo sorteggio tipo una lotteria e tu partecipi facendo domanda sul sito ufficiale il secondo metodo è invece tramite una sorta di asta che si tiene ogni mese dove la probabilità di successo è più alto rispetto al primo metodo però in questo caso se ti giudichi la targa poi la devi pagare inoltre per partecipare a questi metodi bisogna avere certi requisiti che varia a dipendenza di quale città si sta parlando in alcuni più stringenti in altri meno dovete sapere che in Cina ci sono in totale 7 città dove vige questa regola delle targhe in alcune c'è il metodo del sorteggio in altre c'è quello delle aste oppure ci sono alcune città che le hanno entrambi queste 7 città sono rispettivamente Pechino, Shanghai, Canton, Shenzhen quindi tutte le città tier 1 poi Hanzhou che è il capoluogo della provincia di Zhejiang poi Tianjin e Hainan per esempio a Canton ci sono entrambi i metodi sia quello del sorteggio che quello delle aste in tutte le altre città alcune non hanno proprio restrizioni quindi puoi comprare quello che vuoi e quando vuoi invece altre hanno solo dei requisiti che non sono così stringenti in questo video ci concentriamo più su Shanghai e Pechino due città tier 1 dove è veramente difficile ottenere la targa uno è per la bassa probabilità e l'altro per alto prezzo partiamo da Shanghai dove vige solo il sistema dell'asta qui c'è bisogno di distinguere se si vuole acquistare un'auto endotermica o quella elettrica nel caso delle auto elettriche essendoci l'incentivo non c'è bisogno di fare l'asta basta rispettare alcuni requisiti come quello di essere residenti a Shanghai ed aver pagato contributi e tasse per gli ultimi 36 mesi e poi non bisogna avere sotto il proprio nome nessuna auto sia quella benzina che quella elettrica ecco se hai questi requisiti e decidi di comprare un'auto elettrica vai lì te lo compri e ti danno la targa gratis nel caso invece delle auto endotermiche Shanghai ogni mese mette a disposizione un numero massimo di targhe e queste targhe vengono ottenute partecipando a una sorta di asta e per partecipare devi avere certi requisiti che sono più o meno uguali a quelli per le auto elettriche e una volta verificato che hai tutto puoi decidere se partecipare all'asta da solo pagando un deposito di 1000 yuan circa 130 euro perché ogni partecipazione ha un costo di 60 yuan intorno a 8 euro e puoi partecipare massimo a 6 sedute dopodiché se non ottieni la targa il resto del denaro ti viene restituito oppure per aumentare la probabilità di successo molti si affidano alle agenzie come ha fatto mia cugina che sono specializzati in questo lavoro ovviamente affidarsi ad un'agenzia ha un suo costo però almeno sei sicuro di non sbagliare perché non è semplicissimo vincere all'asta non è che dici beh offro un prezzo molto più alto e mi aggiudico la targa no non funziona così ora vi spiego brevemente la procedura l'asta è suddivisa in due parti nella prima parte non bisogna fare tanto nel senso che si fa giusto un'offerta che sia poco superiore al prezzo indicato è definita lì praticamente una specie di notifica del fatto che sei presente e se non fai niente in questa fase perdi poi la possibilità di partecipare alla seconda fase che sarà quella decisiva per l'aggiudicazione della targa nella seconda parte è la possibilità di fare due offerte rispettando alcune regole e sapendo alcune informazioni così da evitare di fare offerte insensate che poi vengono rigettate infatti sulla parte di sinistra c'è questa cifra che è il prezzo minimo di aggiudicazione in questo caso 10.600 vuol dire che se ci sono per esempio i 10.000 targhe messe a disposizione il prezzo minimo di aggiudicazione è di 10.600 magari 9.000 persone hanno offerto 10.900 500 persone hanno offerto 10.700 ed altre 500 persone hanno offerto 10.600 quindi il prezzo minimo di aggiudicazione in questo caso è di 10.600 questo prezzo cambia nel tempo a seconda delle offerte che si ricevono poi c'è anche questo range che sarebbe l'intervallo all'interno del quale la tua offerta viene tenuta in considerazione e anche questo cambia nel tempo a seconda delle offerte ricevute ora ci sono un sacco di strategie che ho visto in internet che ti spiegano e ti insegnano come fare l'offerta per aumentare la probabilità di aggiudicazione alcuni semplici altri più complicati quindi uno se lo vuole far da solo si deve studiare tutte le strategie altrimenti ci si fida ad un'agenzia la cosa positiva è che la probabilità di successo non è così bassa infatti se andiamo a vedere gli ultimi due mesi a febbraio del 2024 per esempio hanno partecipato circa 51.000 persone e 11.800 si sono aggiudicati alla targa quindi la probabilità di aggiudicazione era del 23% mentre a gennaio era del 20% andando a vedere negli anni precedenti la probabilità media si girava intorno dal 15 al 20% quindi è una probabilità abbastanza alta e c'è un motivo primo è che molti vanno solo elettrico visto che basta rispettare quegli requisiti e ti danno la targa gratis e questo va a diminuire il totale delle persone che partecipano all'asta il secondo motivo è che il prezzo di aggiudicazione si sta alzando cioè il prezzo medio di febbraio 2023 è arrivato intorno a 92.000 yuan cioè quasi 12.000 euro per ottenere una targa e poi c'è il prezzo dell'auto incredibile cioè per comprare un'auto in biotermica Shanghai è diventato costosissima tra targa auto e poi il costo dell'agenzia nel caso non vuoi fare da solo qua sicuramente qualcuno penserà questo è la Cina che impone di passare all'elettrico mi c'è la Cina incentiva laddove si può e infatti a Pechino non funziona in questo modo sì anche lì ci sono incentivi però ti tocca fare l'estrazione nella capitale cinese è veramente difficile se non è impossibile ottenere la targa infatti a Pechino vige il sistema della lotteria a prescindere se stai facendo domanda per una targa indotermica o elettrica per la lotteria delle targhe elettriche la probabilità è più alta in quanto la quantità di targhe all'anno messe a disposizione da Pechino sono suddivisi l'80 per cento per le targhe elettriche mentre il 20 per cento per quelle indotermiche poi un'altra distinzione è se stai facendo domanda come persona singola o come famiglia perché alle famiglie vengono dedicate più targhe per esempio nel 2024 sono state messe a disposizione delle famiglie e persone singole un totale di 73.000 targhe elettriche di questi 73.000 l'80 per cento vanno alle famiglie e solo il 20 per cento agli individui singoli inoltre più una famiglia è numerosa e più ha la probabilità di essere estratta questo perché l'altra caratteristica del sistema di sorteggio a Pechino è il punteggio se sei un individuo singolo hai un certo punteggio mentre per la famiglia per ogni componente si aggiungono altri punteggio e questo va ad aumentare la probabilità di essere estratto e in più più volte partecipi al sorteggio e non viene estratto più ha una sorta di moltiplicatore che ti va ad aumentare la probabilità di essere estratto in futuro ed ogni anno di insuccesso questo moltiplicatore diventa sempre più grande perché un conto è se fai l'estrazione per la prima volta e non viene estratto è un altro conto e se hai fatto l'estrazione per sette anni di fila e non sei stato estratto allora in quest'ultimo caso avrai un moltiplicatore molto più alto in modo da avere più possibilità quindi si dà più privilegio alle famiglie numerose a chi ci ho provato tante volte non ci è riuscito e anche qui per partecipare al sorteggio deve avere certi requisiti come la residenza a Pechino contributi e tasse pagate per almeno cinque anni e nessuna auto sotto il tuo nome e qual è la percentuale di essere estratti a Pechino tenetemi forte ragazzi questa è la seconda estrazione del 2023 su 14.300 targhe messe a disposizione in quel mese hanno partecipato all'estrazione circa 52 milioni e mezzo di partecipanti tra famiglie ed individui singoli quindi la probabilità di essere estratto era di 0,027 per cento andiamo a vedere la prima estrazione del 2023 qui sempre 14.300 targhe disponibili 49 milioni partecipanti ed una probabilità di successo di 0,029 per cento più o meno la stessa probabilità di vincere 500 euro se andate a comprare un gratta vinci miliardario ragazzi non so se avete notato ma oltre al percentuale così bassa in un anno vengono fatti solo due estrazioni in totale quindi immaginatevi la disperazione dei cittadini pechinesi che non ha ancora comprato una macchina ci sono tante persone che ci hanno provato addirittura 10 anni di fila senza essere estratti questi dati riguardano la targa endotermica invece per la targa elettrica per una persona singola su 12.720 targhe hanno partecipato circa 470 mila persone e quindi la probabilità di successo era di 2,6 per cento questo invece è il ranking delle famiglie che vogliono ottenere la targa elettrica con il loro punteggio in questa colonna negli anni passati non era così difficile essere estratti le norme erano meno stringenti e c'erano più targhe a disposizione ma con l'aumentare delle auto e delle persone che fanno domanda le regole per ottenere una targa sono diventate sempre più toste ovvio uno può anche andare ad affittare una macchina solo per quando gli serve perché a pechino i mezzi di trasporto sono molto efficienti e quindi non è che hai sempre bisogno della macchina però affittarlo sappiamo che costa molto di più molti potrebbero chiedersi si può magari comprare un'auto in altra città dove non ci sono vincoli e restrizioni per poi portarla a pechino ovviamente no perché se la targa non è di pechino non puoi neanche entrare nella città infatti ogni targa all'inizio ha un ideogramma che indica a quale città appartiene per chi si chiede come mai in queste città sono state messe questi vincoli così rigidi soprattutto a pechino beh il primo motivo è contenere l'inquinamento infatti questi vincoli esistono già ormai dal 2010 anche se in passato era molto più facile essere sorteggiati ora in questi ultimi due anni con l'arrivo delle auto elettriche ok che sia una diminuzione dell'inquinamento però c'è sempre il problema di troppe vetture che vanno a peggiorare la situazione del traffico nelle grandi città nelle città tier 1 praticamente c'è quasi sempre traffico in qualsiasi orario queste cose che vi ho detto valgono per chi vuole acquistare un'auto ad uso privato invece per le auto aziendali ed altri mezzi come camion le regole sono diverse bene ragazzi per questo video è tutto spero di avervi chiarito un po le idee su come si ottiene quanto sia difficile ottenere le targhe in alcune città cinesi soprattutto le città tier 1 se il video vi è piaciuto lasciate un bel like iscrivetevi al mio canale per supportarmi e noi ci vediamo alla prossima bye bye